Siamo a bordo dell'aereo che porterà il Papa in Congo e Sud Sudan, un viaggio molto desiderato. Francesco è il secondo pontefice, dopo San Giovanni Paolo II, a visitare il Congo ed è il primo a recarsi in Sud Sudan. Il decollo è previsto per le 8 e 10, dopo quasi 7 ore di volo arriveremo nella capitale congolese di Kinshasa. Qui sull'aereo ci si prepara a partire, tanta è l'attesa di incontrare il Santo Padre che saluterà come di consueto giornalisti, fotografi e i tecnici che lo accompagneranno in questo quarantesimo viaggio internazionale. La prima tappa dunque sarà il Congo, il 3 febbraio arriveremo in Sud Sudan. I due paesi hanno storie diverse ma sono accomunati da tanta ricchezza di risorse nel sottosuolo e di vegetazione ma purtroppo anche da violenze, scontri e corruzione. La Chiesa è viva in questi contesti in cui le persone a volte sembrano non contare nulla perché ciò che prevale spesso è la divisione tra gruppi etnici, tribali, il potere, il benessere di pochi. Il Papa ha chiesto di pregare per accompagnarlo, per accompagnare questi due paesi. Porta la speranza, il volto di Cristo e farà certamente appello al cuore degli uomini affinché gli occhi si aprano e si cambi rotta.